Si svolgerà il 26 luglio alle ore 21 al Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dei vincitori dell'edizione 2019 del premio Amore per l'Abruzzo, istituito nel 1995 ed è ritenuto uno dei più importanti in regione per il palmarès che può vantare. Importante riconoscimento che all'intento di gratificare gli abruzzesi che abbiano raggiunto risultati importanti nei diversi settori professionali, imprenditoriali, culturali e onorare persone o istituzioni che in qualche modo si siano distinte nell'impegno sociale e civile in favore dell'Abruzzo. Una grande manifestazione, nuovamente 20 eccellenze abruzzesi, 20 tra imprenditori, uomini e donne della solidarietà, amici che tutelano l'ambiente ma anche uomini di grande spessore culturale, messi insieme in questa manifestazione più che ventennale, 15esima edizione, quest'anno a Roseto sul lungomare, una grande manifestazione per testimoniare affetto, gratitudine, amicizia e stima alle persone che lavorano per favorire un migliore sviluppo dell'Abruzzo e renderlo famoso nel mondo, quindi campioni del mondo di sport ma anche grandi imprenditori, uomini del giornalismo, uomini della cultura, uomini della politica. Tra i premiati c'è anche il nostro direttore Carmine Perantuono. Nel campo del giornalismo quest'anno il vostro direttore, un amico, una persona eccellente, un grande professionista, direttore dell'unica televisione vera abruzzese che ci rende orgogliosi e soprattutto fa informazione, fa cultura, tutela l'ambiente, crea e favorisce il migliore sviluppo dell'imprenditorialità, quindi ben venga questo premio a una persona seria, a un serio professionista.